Stupenda, sfavillante, straordinaria vittoria di Yannick Sinner, l'alto adesilo per eccellenza, contro Daniel Medved. Riesce a battere il russo, è andato a chiudere il round Robin del primo posto, con un percorso piuttosto piacevole, garbato e straordinario. 3 vittorie su 3, 0-7, persi, non perde neanche un set, riesce a compiere un vero e proprio miracolo, mi permetto di dire, e conquista, diciamo così, un posto e gemole nell'ambito del tennis giocato. Sinner ormai è un campione affermato, possiamo dirlo, vi ricordo che domani ci sarà, vi ricordo, la semifinale a Torino, in Piemonte, quindi, la prima partita alle 14 del pomeriggio, la seconda alle 20 della sera, non è ancora stato deciso quando, diciamo così, toccherà a Sinner, però sembra che questa sia la data, diciamo così, certa, gliene ha una sicura. Diciamo che lo stesso Sinner è riuscito a farsi strada contro proprio Medved, il russo per eccellenza, sta riuscendo a fare un gioco di bellezza e di fascino impressionante, riuscendo a strappare la vittoria in una maniera veramente straordinaria. Questa è l'ATP Finals 2024. Va bene? Il rischio che però si possa presentare contro Yannick Sinner nel gioco c'è, e potrebbe infatti, diciamo così, palisarsi al Caras, il famoso tenista spagnolo per discerezza. Grazie a tutti, una buona giornata da narratuita.